FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI PASTICCERIA, GELATERIA, CIOCOLATERIA Esperienza, professionalità, innovazione, eccellenze di settore, cultura del dolce, aziende leader. Un unico gruppo, questa è la federazione. Una filosofia ben chiara, una realtà affermata, dove il singolo componente fa parte di un gruppo, dove il confronto tra colleghi è alla base di tutto, dove chi fa parte della federazione gioca in prima persona. Questo per noi deve essere stimolo di crescita e spirito di collaborazione fin dal primo momento. Non è solo indossare una giacca, ma sentirsi parte integrante di una grande famiglia. Pasticceri, gelatieri, cioccolateri e cuochi, consulenti, docenti di scuole professionale, alunni, scuole professionali, aziende e grossisti di materie prime ed attrezzature. Questo è il momento giusto per dare vita alle tue aspirazioni. La Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria opera in tutto il mondo tramite delegazioni territoriali, partnership con aziende leader del settore e scuole di formazione, Card ufficiale FIP, convenzioni con aziende leader del settore, sconti con scuole professionali, divisa ufficiale FIP, vasto catalogo gadget FIP, targa ufficiale per il tuo locale, corsi e dimostrazioni con docenti FIP, consulenze in azienda, stage formativi, ricerca e sviluppo, marketing aziendale, concorsi nazionali, concorsi internazionali, preparazione individuale e squadre, gestione e forum in fiere di alto livello. Questo è solo una parte di quello che trovo in federazione. Inoltre in federazione troverai Sweet Journal, la rivista ufficiale della federazione, un magazine digitale alla portata di tutti e al servizio di tutti, gratuita e senza abbonamento, in italiano e in inglese, dove si dà spazio agli associati e si scoprono talenti. Il tuo talento. Ricette, news, tendenze del mondo dolciario e del food, tecnologie di ultima generazione grazie ai nostri partner, merceologia alimentare e non solo. Questi saranno gli ingredienti primari di Sweet Journal. Il magazine ufficiale della federazione internazionale di pasticceria, gelateria, cioccolateria. Equipe eccellenze italiane di pasticceria, gelateria, cioccolateria ed equipe eccellenze italiane di cake design. Due realtà di cui andiamo fieri. Un team di plurimedagliati, campioni del mondo, campioni olimpici ed europei nelle più svariate discipline culinarie ed artistiche. Persone prima che professionisti. Perché sono loro il fiore all'occhiello della federazione, ma hanno una grande responsabilità. Condividere e portare il nome della federazione in giro per il mondo. Un team di professionisti selezionati dalla federazione, per le loro dote artistiche e per i traguardi ottenuti negli anni. Un'ispirazione, un obiettivo da raggiungere per coloro che puntano in alto, rimanendo con i piedi per terra. Perché il valore umano è alla base di tutto. Scopri come farne parte. Collegati subito a www.federazionepasticceri.it e vai alla sezione Iscriviti alla federazione, dove potrai ricevere tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti grazie al servizio gratuito di newsletter, per rimanere aggiornati su tutto con un semplice click. Ovunque ti trovi. Cosa aspetti? Collegati subito e benvenuti nella federazione internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria. Grazie a tutti.